La di oggi è stata una partita vera, per un motivo, è una di quelle partite che se sei allo stadio, le partite così, le vivi fino all'ultimo secondo, le giochi quasi, ti viene a dire che puoi aver respirato la stessa aria di quando giochi una partita. Oggi, da lontano, quindi dalla distanza dalla televisione, ho percepito la stessa sensazione. Al triplice fischio ho respirato. Quando la palla è uscita all'ultimo attacco della Fiorentina i miei polmoni si sono riempiti di ossigeno. Ero in apnea da minuti. E questo mi fa capire che, per quanto la penalizzazione sia stata una parte importantissima, un impatto importantissimo all'interno di questa stagione, poi adesso è un po', si è un po' allontanata questa cosa qui. Perché comunque la partita è la partita. Io credo che questa sia stata una partita molto strana da valutare, molto strana, perché credo che le azioni da gol, le palle gol, più importanti, più pesanti, le abbia vute la Juventus in assoluto. Ma allo stesso tempo è stata una partita nella quale il dominio territoriale, il dominio della gara, del match, la squadra messa meglio in campo, anche banalmente, era la Fiorentina. Fiorentina che, secondo me, l'istantanea perfetta è a un certo punto su un cross per Jovic che, in area di rigore, manca il pallone. Una Fiorentina che, messa molto bene, secondo me, risposta molto bene nell'italiano, che sapeva che partita voleva fare, poi arrivava negli ultimi metri ed era incapace di tramutare, in occasione da gol, anche solo in tiro, potenziale, occasione, tutto quello che riusciva a costruire. Fino sulla tre quarti molto bene, dentro la tre quarti male. La Juve è il contrario, per un certo punto di vista, nel senso che la Juve è stata molto confusionaria, ho visto del caos a livelli allucinanti all'interno di questa partita. Una Juventus, forse con un centrocampista in meno, che riusciva a dare meno palleggio o meno equilibrio, non lo so, dopo parleremo anche del tridente, ma una Juve molto nervosa, decisamente nervosa. E' una Juve che poteva segnare due, tre, quattro gol, perché comunque di pallegole importanti le vute anche su errori della Fiorentina, anche in disimpegno, anche da calce d'angolo, ma le pallegole ci sono state. Poi non è stata fredda e cinica nel concretizzarle. Parto dall'arbitro, e per arbitro intendo il VAR, perché sicuramente ci saranno delle polemiche. Io vi dico la mia opinione, che è la stessa cosa che ho detto in presa diretta, chi era in live su Twitch lo sa benissimo. Ha il gol annullato a Vlaovic. Mi sono messo a ridere. Mi sono messo a ridere perché quello è un fuorigioco che c'è, effettivamente, per il fuorigioco semiautomatico, stiamo parlando di millimetri, è il millimetro fuorigioco. Ma è un fuorigioco che annulla la giocata dentro il campo, perché Vlaovic fa una grandissima giocata in contromovimento per rientrare, e la fa perfettamente. La giocata di Vlaovic è super efficace, il recupero di Locatelli è bellissimo, la palla in verticale di Kostic è con i giri perfetti. Quindi Vlaovic fa un tocco sotto magnifico, il gol è molto bello, e viene annullato per un millimetro. E viene mangiata quella magia che fa parte per forza del campo, viene mangiata dalla tecnologia, nel cercare di unificare il calcio su un giudizio sempre più oggettivo e non più soggettivo dell'arbitro. È il prezzo da pagare per queste cose, così come è il prezzo da pagare il gol annullato a Crastrovilli, perché il gol annullato a Crastrovilli, ragazzi, anche lì, Crastrovilli ha un gesto tecnico magnifico, un impatto di dropspin del pallone clamoroso, la palla che va via in quel modo è stupenda, si insacca in maniera eccezionale, c'è il fuorigioco di mezzo millimetro anche lì di Ranieri, che non tocca il pallone, va a toccare Locatelli, lo mette in condizioni di non poter più giocare la palla e la palla finisce lì per quel motivo. Anche lì stiamo parlando veramente di situazioni che... Questa è una partita che deve finire 2-1, per quanto mi riguarda, non una partita che deve finire 1-0, che è giusto che la Juve prenda il gol come è giusto che la Fiorentina prenda il secondo. Questa è una partita da 2-1 e non da 1-0, per quanto mi riguarda. Poi l'evoluzione ci sta portando anche a questa cosa qui, è giustissimo che anche il fuorigioco di un millimetro venga fischiato, è giustissimo che la tecnologia ci metta lo zampino, sarò nostalgico, sarò boomer, sarò forse poco aperto, per quanto sia qui a dirvi è giustissimo che siano stati annullati, ma a me ha rubato un po' di magia tutto questo. La tifoso penso di poter avere diritto a un'opinione, secondo me quelli sono due gol leciti, perché secondo me non c'è fallo di Regneri su Locatelli, però parte in posizione irregolare, mette in disturbo Locatelli e quindi viene annullato, anche quello giustamente, però stiamo parlando di un po' di follia. Poi c'era un potenziale rosso per la Fiorentina, quello è un discorso a parte, che sappiamo sul secondo giallo non si può intervenire anche lato VAR. Volevo solo dire la mia per quanto riguardava questi due episodi dei fuorigioco, l'altro giorno guardavo anche West Ham Chelsea, una partita finita 1-1, sono stati credo a 4-5 fuorigioco, con un paio di gol del Chelsea e un altro del West Ham, quindi partite anche abbastanza combattute, si toglie un po' di magia, poi quello di Joao Felix era abbondantemente più là, però non era quello il punto. E per dire che secondo me si sta perdendo davvero anche il fuorigioco di Lautaro del derby, rientra sempre in quella fascia di giudizio per quanto mi riguarda, secondo me era interessante anche fare questo punto di vista, il punto della situazione. Però devo anche dirvi che secondo me il gol di Castrovilli deve insegnarci qualcosa, deve per forza di cose lasciarci qualcosa, perché oggi la Juve ha vinto sta partita, e dicevamo anche prima le occasioni, il maggior numero di occasioni probabilmente l'ha avuta la Juventus. Però ci deve essere una via di mezzo, una via di mezzo nel battezzare quelle che sono le situazioni, rispetto a partire con un 3-4-3, quindi tre attaccanti, due centrocampisti, due esterni anche abbastanza alti, nei primi minuti tre difensori, a finire a 5-4-1. Una via di mezzo ci deve essere, una via di mezzo non puoi essere 100 o 0, una squadra offensiva tutti in avanti, una squadra difensiva tutti indietro all'interno degli stessi 90 minuti. Io capisco che ci siano delle fasi, dei momenti della partita in cui è necessario prestare più attenzione alla fase difensiva, però quel gol di Castrovilli nasce perché tu rinunci completamente, anche solo a prendere in considerazione l'ipotesi di fare gol, che è una cosa che puoi comunque fare, anche se non hai più Lauvic, anche se non hai più Di Maria, anche se non hai più Chiesa, il gol lo puoi fare. E l'abbiamo visto con le due o tre occasioni capitate a Moise Ken, le due nel giro di un secondo appena entrato, anche quelle clamorose, come è clamoroso il gol che si mangia Kostic nel primo tempo là in fondo, sulla sinistra. Insomma, mi sembra che ci sia una mancanza di concentrazione nei giocatori negli ultimi metri, magari anche sotto porta, nei momenti clou, e che ci sia anche un po' di confusione da parte dell'allenatore, perché secondo me oggi la partita è stata approcciata, cioè i primi minuti ti facevano proprio capire che la Juventus era sì messa male, era messa male la Juve in campo nei primi minuti, e mancava quella qualità nel palleggio, quella possibilità di arrivare davanti, però l'idea c'era, perché era una Juventus che andava in avanti, era una Juventus che andava a pressare, era una Juventus che cercava di salire, era una Juventus che voleva giocare il pallone in verticale, era questa la partita che voleva fare la Juventus, sia da come la metti sulla carta, sia da come poi entri in campo e fai i primi minuti. Poi vedi che questa cosa non ti riesce, non ce la fai, allora inizi ad andare indietro, 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 fino al momento in cui rottura definitiva, tac, fuori un attaccante che ci stava, perché Di Maria aveva fatto una partita, che poi ne parleremo domani ai pagelle, avevamo andati anche oltre, e poi fuori anche l'altro attaccante dentro il centrocampistè, iniziato con due, finito con quattro, con Rabiù largo a sinistra, con Fagioli largo a destra, con cinque difensori, e con solo Ken là da solo ogni tanto, a rincorrere Ambrabat, Milenkovic e Ranieri, che apro e chiudo una parentesi, è stato insopportabile personalmente, dal primo all'ultimo minuto, infatti il fatto che sia stato proprio lui, a essere in fuorigioco, e che sia stato lui a fare annullare gol alla Fiorentina, da tifoso, mi ha fatto veramente godere, perché è stato un giocatore che si è comportato male, dal primo all'ultimo minuto, come l'altro giorno parlavo di Paredes, se non vedete mi dire che quando il fan quelli della Juve non ne parlo, perché Paredes ha fatto praticamente le stesse cose, si comportano nello stesso modo, oggi Ranieri ha fatto la stessa cosa, ha voluto attaccare Briga dal primo al novantesimo, questa era l'intenzione di far innervusire i giocatori, quindi per fare queste cose poi il tifoso non prende in particolare simpatia alcuni giocatori che cercano di fare alcune cose all'interno della partita, però questo secondo me deve essere un modo per farci davvero capire che quel gol di Castrovilli del millimetro in fuorigioco come il millimetro in fuorigioco di Vlaovic non va sempre in un modo e sempre nell'altro, all'interno di questa partita siamo stati fortunati perché c'è stato un gol da una parte o dall'altra per cercare di togliere delle polemiche che, scommettiamo già da due euro, ci saranno comunque perché sono convinto che ci saranno comunque perché conosco i miei polli e ci saranno comunque dibattiti, titoli, giornali, social, articoli, post ci saranno assolutamente anche se c'è stato uno da una parte o uno dall'altra ci saranno assolutamente però questo deve farci capire che noi non possiamo sempre, sempre a un certo punto dire sai cosa, un gol è sufficiente no, la partita va chiusa ragazzi, la partita va chiusa la partita va chiusa ora, non siamo nella condizione di dire questo fa la differenza nei vincere i campionati perché non è la nostra situazione lo sappiamo oggi siamo da tutta un'altra parte ma una squadra è un percorso di crescita ha visto che col tridente non riesce ad arrivarci in questo modo inizierà a cercare di arrivarci in un'altra maniera oggi, secondo me, la mancanza di fagioli o comunque di un terzo centrocampista ha sfalsato un po' tutte quelle che erano le caratteristiche della Juventus che aveva accumulato in questi mesi ma ci sta, la prima volta che scrivo che la formazione è normale che sia così inizierai a prenderti quanto di buono e quanto di meno buono e cercare di sistemare per cercare di riproporre però ci sarà una via di mezzo tra gioco con tre attaccanti e due esterni che spingono a difendo con cinque difensori e metto dentro due centrocampisti che mi vanno a fare addirittura gli esterni cioè, ho tutto nulla è cos'è l'impulso legge del tutto e del nulla quel gol di Castrovilli lì è l'essenza di quello che in questo momento dobbiamo migliorare cercare di chiudere comunque le partite che si possono chiudere perché la Fiorentina, ribadisco squadra messa bene in campo che gestiva bene il pallone che da dietro usciva molto bene che si sviluppava nella metà campo avversaria che aveva una facilità di palleggio invidiabile però poi non riesce ad azzannare allora sfruttiamole queste cose questi difetti che come ce li abbiamo noi difetti ce li hanno anche gli altri che se no siamo sempre qui a dire bravi gli altri, bravi quegli altri bravi quegli altri ce li abbiamo anche noi però se poi noi non siamo bravi in quelle palle gol lì in quelle occasioni che abbiamo buttarla dentro possiamo poi rinunciare completamente a dire sai che per fortuna oggi siccome è una gran fortuna che ci sia stato il fuorigioco semiautomatico sia da una parte che dall'altra sia da una parte che dall'altra perché magari ti capita la partita in cui Vlaovic è davvero ancora più avanti di un millimetro ma Ranieri no e tu lasci due punti per strada perché? perché questa lezione non l'hai ancora imparata ed è una squadra questa che non può permettersi di gestire un solo gol di vantaggio sono poche le squadre siccome è che possono permettersi di gestire un solo gol di vantaggio perché hanno raggiunto una maturità di un certo tipo questa Juve ancora non lo è ancora non lo è quindi portiamoci a casa questa vittoria quest'ansia che è derivata da questa partita questo nervosismo che si è tradotto anche nel finale con tanti cartellini gialli e questa confusione all'interno di un modulo nuovo inedito che era assolutamente prevedibile però cerchiamo anche di imparare dagli errori cerchiamo di cerchiarli questi errori queste piccole cose che servono a migliorare non sono critiche distruttive sono critiche costruttive non si vuole distruggere si vuole creare si vuole migliorare perché lì davanti c'è un potenziale secondo me incredibile con questa Juve ma Chiesa e i Maria Vlauvi ci hanno toccato pochi palloni oggi decisamente pochi palloni data molto meglio la Juve di Salerno secondo me rispetto alla Juve di oggi poi ci sono delle cose da apprezzare comunque all'interno di questa partita lo faremo sicuramente nell'analisi domani perché non è tutto a buttare è una partita ripeto molto particolare con la Fiorentina ci ha mostrato una squadra messa bene la Juventus una squadra messa male la Fiorentina ci ha anche mostrato una squadra che non ti riporta la Juventus ci ha mostrato una squadra che produce palle e gol in un modo o nell'altro quindi non è tutto a buttare felicissimo della vittoria ma teniamoci a mente queste cose qui perché sono quelle cose che poi ti fanno crescere ti fanno fare la differenza perché questa Juve è ancora una squadra che segna ancora pochi gol è ancora una squadra